Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Signori, siamo arrivati al sushi. Grazie, sergente! Mi hai sempre detto che sono albanese, ora tienitela. Ok, allora ragazzi, vediamo se non perdiamo la connessione. Easy! Non metterti la gonna, la gente è rapata, non sta bene, dovresti saperlo. Non poter entrare anche di quello perché glielo vieto. Ci sono uomini che toccano mia moglie, mi spiace. Che rottura di palli, guarda che ragazzino ieri ha abbracciato anche me. Maledetto pezzo di merda! Vai, poverino! Maledetto pezzo di merda! Poverino, sono quelli che ti hanno comprato anche la maglietta, dai! Grande bro! Grazie per aver preso la maglietta, figa! Il mio idolo, number one, grazie! Mi ha abbracciato tutti voi e mi ha abbracciato anche me! Mi metto un bastardo o non abbracciare mia moglie? Qual è il problema? Qual è il problema? Tutta sta gelosia, ma un colore... Quella è importante! E un po'... Puoi chiedere una foto? Quando finisco di mangiare, sì! Ok, grazie! Quando ho le perle dentro... Poi ci metto il detesivo, l'anti caccare! Come porco dia, se puoi... L'aceto! 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 Cristo Dio me rendina! Zitto! L'aceto! La candeggina! Ti sembra normale? Oh! Ti sembra normale? Ti aspetti per ore... Comunque ragazze... Poi ci metto la morbidente, poche cose... Ma quello che ha visto fuori... Ma non me ne hai fatto un cazzo! Quando sto mangiando non mi doveva rompere il cazzo! Sì, perché quello te lo prendi da me che ti ho detto questo! Ma non fare l'arrabbiato che tu non sei così... Acido con le persone! Sto mangiando! Sto mangiando! Sono la persona più disponibile a fare foto e video... ... ... Ok... Ecco, molto meglio! Che quando sono puliti sgusciano via! Andiamo? Minchia come profumano! Salve! Ah, il buco c'è sempre! Eh, così stanno bene, cazzo! Il buco c'è, guarda, guarda che roba! Lo chiuderone! E la stempiatura! Che che sono lì nel paese del frrrrflasal! E che sono talmente puliti che si annodano di brutto! Perché non li lascio liberi! Sì, adesso non fa caldo, posso anche lasciarli liberi! Ma mi riswitcha le armi! Mi riswitcha le armi! È colpa mia! Guarda che figato! Ciao Carus! Siamo dentro nel torneo, raga! Non mi ricordo se il torneo è for fun o abbia... O abbia qualcosa! Non ricordo, eh! Non si molla un cazzo, non si molla un cazzo! Pronto! Ho assolutamente rientrare! Io voglio ringraziare il ragazzo che mi ha fatto... Jack, per favore! La prego di mantenere la mentality! Il ragazzo che mi ha regalato questa kill... GG! Non posso bruciarla! Non so come ho fatto! Non lo so! Se Antonio Cartogno mi lancia io... Gli dico se vuole farmi uno scream violento! Io non so neanche chi è Antonio Cartogno! Che cazzo sei vissuta te? La melevisione! Antonio Cartogno, Lupo Lucio! Non so neanche chi è io! Eh, purtroppo Goblinschi ancora non sanno bene... I ragazzi che si stanno avvicinando alla nostra musica... Non sanno bene che cosa vuol dire pogare! Lupo Lucio è sotto arresto, mi hanno detto! No, non è vero! Mami non guardava la melevisione, purtroppo! E adesso... Gli SPARK! Un big scream di Antonio Cartogno, figa! Ma perché fa lo scream? No, non fa lo scream! Andiamo! Guarda questa canzone! Abbiamo sette sub in palio, eh! Easy! La gente che vende le carte, bla 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 bla... E ogni tanto... Mi succede di vedere... La fottuta famiglia felice di merda... Sul loro cazzo di trattore della funcia di minchia... Che sono tutti messi in fila... Col cane davanti... E sotto c'è scritto... Nel gruppo... Gesù Cristo è il mio Dio... E sotto c'è scritto... Cazzo! Meno male che ci sono persone come loro... Che si fanno il culo... E portano avanti l'economia... Che è verissima come cosa! Che è verissima! Meno male che c'è gente... Che ancora lavora la terra... Sono i miei idoli! Ma vedere... Quei fottuti ritardati dei pensanti del cazzo... Che gli scrivono sotto... 27.000 commenti! Con i cuori e con scritto! Meno male che ci siete voi! Mi verrebbe da prendergli la faccia e spaccagliela contro un muro! Perché perlomeno servirebbero per rifare la vernice! Questo farei! Tento il medaglione del raft... Merda la cagarella Simo! Brutta storia! Ci sono io comunque! Ci sono io! Non ci preoccupi! Un po' me lo merito però eh! Un po' me lo merito! Un po' me lo merito! Un po' me lo merito! Che finale di merda! Ma ho preso una kill! No no muoio muoio cazzo! Let's go top 3! Easy! Non avevo cover raga! Non avevo cover! Non avevo cover! Nice! Nice! Ultima! Mentre è il re del gioco! Niente è lui! Dove va? Ma non c'è un'idea! Ma cosa fa? Ma ragazzi! Venga non è più re del gioco! Ma scusi! Ma avete ribaltato! Ma vedi chi è ragazzi? Ma cos'è? Quanto è che è il tempo? Sono tutti bloccati nelle rocce! Ma come 5 minuti! Momento! Momento! Ma non mi ridisturbi Edo! Sono abituato! Tranquillo caro! Andiamo! 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 Andiamo!